Si apre una crisi senza precedenti nella storia politica del secondo dopoguerra in Italia. Una crisi che si può definire europea, poiché dice una cosa inequivocabile, che la maggioranza dell'elettorato italiano ritiene necessario cambiare la politica dell'Europa, cambiare l'Europa così com'è e basta. Niente di più, ma anche niente di meno. E l'esito provvisorio, del tutto provvisorio, dice che la classe dominante italiana, quella che ha condotto il paese alla crisi attuale, al debito pubblico oltre 2.300 miliardi di euro, a 6 milioni di famiglie povere, alla disoccupazione giovanile al 50% nel sud, al disastro dei servizi sociali, alle privatizzazioni selvagge, alla stagnazione, al precariato generalizzato, non solo non intende andarsene, ma si appoggia al ricatto dei mercati e pretende che esso abbia la meglio sul voto popolare. Interprete di questa strana idea è stato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha spiegato esplicitamente il suo pensiero, così contravvenendo all'articolo 1 della Costituzione, sulla quale ha giurato, e che suona inequivocabile, così, la sovranità appartiene al popolo. La scusa scelta è stata la disegnazione a Ministro dell'Economia del nuovo governo del Professor Paolo Savona, accusato da Mattarella di voler uscire dall'euro. Accusa totalmente infondata, come aveva in extremis fatto sapere l'interessato con un comunicato che si concludeva con le inequivocabili parole «mi batto per un'Europa più forte e più giusta». Ma non è bastato. Mattarella non ha fatto mistero dei suoi pensieri allarmistici e allarmati. Un governo con questo ministro sarebbe comunque un segnale negativo per l'Europa, e dunque meglio impedire la formazione del governo che correre questo rischio. E così Mattarella ha varcato il rubicone, decidendo che i mercati contano di più del popolo. La risposta del Movimento 5 Stelle è stata subito furibonda, come del resto quella di Salvini per la Lega. Proposta di avviare la procedura di impeachment per attentato alla Costituzione. La Lega, al momento in cui scriviamo, non si è ancora pronunciata chiaramente. Salvini ha invitato la calma ai suoi, evidentemente pensando che in caso di elezioni anticipate il suo successo sarà comunque straeripante. Ma perfino la piccola coalizione di destra di Fratelli d'Italia ha subito annunciato che appoggerebbe l'impeachment. Dalla parte del Presidente c'è la maggioranza dei grandi mass media, che lo giustificano e lo difendono. C'è il Partito Democratico di Matteo Renzi e c'è anche Berlusconi, il che significa che l'alleanza di destra è definitivamente finita. Berlusconi tende la mano al Partito Democratico per salvarsi. È evidente che in caso di elezioni entrambi sono ancora più a rischio di quanto non abbia mostrato il loro duplice disastro elettorale del 4 di marzo. E in ogni caso non hanno i numeri per resistere all'ondata popolare contro di loro. Unica arma, la minaccia di sanzioni da parte di Bruxelles. Ma attenzione, l'Italia è uno dei fondatori dell'Unione Europea. Il segnale che viene da Roma dice che la crisi è continentale. Non sarà facile disinnescarla. Io dico soltanto una cosa che si dovrebbero responsabilizzare un po' di più. Dovrebbero capire un po' più gli udenti, i cittadini e tutti quanti. Perché pare che stanno a giocare un po' troppo. No, io speravo che questo non avvenisse soprattutto solo perché è ora che si faccia qualcosa. Non si possa vivere a stare in questa situazione. Credo che ogni giorno sarà sempre peggio. Me l'aspettavo o no, però purtroppo questo è un paese dove i cambiamenti nessuno vuole che avvengano. Perché alla fine nessuno può fare poi i porci come di soli. E allora non si arriverà mai a una conclusione che possa aiutare i cittadini e farsi al meglio il paese. Forse il problema è che bisognerebbe cambiare la legge elettorale. Se andiamo di nuovo al voto forse ci ritroveremo nuovamente così. Il resto è fatto tutto prima, nelle precedenti legislazioni. Ma in Italia sembra che le cose vengano sempre rimandate. Venerdì 25 maggio, dal Forum Economico di San Pietroburgo, il presidente russo Vladimir Putin ha preannunciato la minaccia di una crisi sistemica senza precedenti. Oggi stiamo assistendo alla rottura di un sistema di collaborazione multilaterale la cui costruzione è durata decenni, mentre diventa una regola la violazione delle norme, afferma il leader russo, che aggiunge «Alcuni paesi stanno cercando di ignorare completamente le regole delle relazioni commerciali internazionali che loro stessi hanno scritto, ritirandosi da contratti ed accordi già firmati». Una chiara allusione al comportamento degli Stati Uniti, che Putin critica anche in relazione alle nuove forme di protezionismo in atto. Se un tempo si ricorreva a misure classiche, quali dazzi aggiuntivi, nuovi requisiti tecnici e sussidi nascosti, oggi invece, spiega Putin, si fa ricorso a pretesti chiaramente inventati, richiamando non meglio specificati motivi di sicurezza nazionale per soffocare i concorrenti ed estorcere concessioni. «La spirale di sanzioni lanciata da questi paesi non fa che allargarsi», continua il presidente russo, colpendo un numero crescente di Stati e di aziende e anche coloro che pensavano di essere risparmiati. Ma arbitrarietà e mancanza di controllo portano inevitabilmente alla tentazione di usare questo tipo di strumenti sempre più spesso e con un raggio d'azione sempre più ampio. Le conseguenze potrebbero essere devastanti. Il disprezzo delle norme vigenti e la perdita di fiducia reciproca tra gli Stati, sommate all'imprevedibilità e alla turbolenza dei cambiamenti colossali che avvengono nel mondo, avverte Putin, sono in grado di provocare una crisi sistemica con la quale non ci siamo ancora mai confrontati. Vladimir Putin ha quindi lanciato un appello alle grandi potenze mondiali. Gli interessi nazionali si possono promuovere in modi diversi, ignorando quelli altrui oppure rispettandoli. Oggi il mondo è interconnesso e anche le nazioni lo sono. E ogni nazione, in particolare quelle grandi e con un'economia forte, hanno l'enorme responsabilità di lavorare per un futuro comune. La Palestina ha inoltrato una richiesta formale al Tribunale internazionale dell'AIA affinché venga avviata un'indagine sui crimini di guerra di Israele nei territori palestinesi occupati. Martedì 22 maggio il ministro degli esteri dell'autorità palestinese, Riad al-Maiki, ha incontrato la procuratrice Fatou Ben-Souda, che già aveva iniziato delle indagini preliminari. L'inchiesta non riguarderà solo le recenti uccisioni a Gaza, ma tutti gli abusi commessi dal 2014 in poi, incluse le occupazioni illegali. Il passo è senza precedenti, storico, ha ribadito il ministro, e sveltirà il processo. Sinora, infatti, oppressa da Israele e Stati Uniti che la minacciavano con il taglio dei fondi, l'ANP aveva desistito dal fare questo passo. Sarà un test per il meccanismo del diritto internazionale, ha aggiunto al-Maiki. La risposta di Tel Aviv non si è fatta attendere. Consideriamo la mossa invalida dal punto di vista giuridico, commenta in una nota il Ministero degli Esteri, poiché Israele non fa parte della Corte Internazionale di Giustizia e la Palestina non è uno Stato. Intanto, giovedì 24 maggio, per la seconda volta, l'Alta Corte di Giustizia israeliana ha bocciato la richiesta di un'indagine sulle uccisioni di Gaza, inoltrata da alcune ONG. Sono circa 115 i morti sinora, compresi 14 bambini, due giornalisti e un paramedico. I giudici, che si sono rifiutati di visionare i video, giustificano l'uso dei proiettili per difendere i cittadini israeliani da Hamas. La Palestina, che a differenza di Israele ha fatto anche richiesta di entrare nell'OPAC, l'Organizzazione per la Prevenzione delle Arme Chimiche, ne diventerà membro effettivo il prossimo 16 giugno. Quattro funzionari militari russi sono morti durante un attacco sferrato da diversi gruppi di terroristi contro l'artiglieria siriana nella provincia orientale di Deir Ezzor, roccaforte di Daesh, fino a novembre scorso. Durante la battaglia, durata circa un'ora, le forze russe e siriane hanno eliminato 43 terroristi e distrutto sei veicoli pesantemente armati. A riferirlo, ieri, domenica 27 maggio, il Ministero della Difesa russo. E mentre Aleppo e Guta Est tornano alla normalità, le autorità siriane hanno ritrovato dal ganto nel distretto settentrionale di Homs armi e munizioni di ogni tipo abbandonate dai terroristi. Intanto, da oggi e sino al 26 giugno, la Siria assume la presidenza della Conferenza ONU sul disarmo, nonostante l'opposizione degli USA e di Israele. La Siria manterrà professionalità e responsabilità nel difendere le leggi internazionali, in primis la Carta delle Nazioni Unite e i principi della Convenzione sul disarmo, ha commentato il delegato permanente siriano a Ginevra, Hussam Edin Ala. Fra le priorità di Damasco, l'allestimento di aree libere da armi nucleari e da armi di distruzione di massa, specialmente Medio Oriente, e la lotta contro il terrorismo chimico e biologico. Il gasdotto Turkish Stream raggiungerà l'Unione Europea. Sabato 26 maggio, infatti, il colosso energetico russo Gazprom e il governo turco hanno firmato un accordo sul tratto terrestre di Turkish Stream, che attraversando la parte europea della Turchia fino ai confini con la Bulgaria e con la Grecia, porterà il gas russo agli utenti europei. Appena una settimana fa, alla vigilia della sua visita a Mosca, il presidente bulgaro Rummen Radiev aveva auspicato una modifica al secondo ramo del gasdotto, affinché arrivasse attraverso il Mar Nero direttamente in Bulgaria e da qui agli altri paesi dell'Unione Europea. Ma visti i precedenti, ovvero la decisione di Sofia di interrompere il progetto South Stream nel 2014, Gazprom ha preferito un'opzione meno vantaggiosa dal punto di vista economico, ma più sicura. In cambio del via libera alla costruzione del gasdotto, Ancara ha ottenuto da Gazprom un borso del 10%, pari a un miliardo di dollari, sulle forniture di gas del 2015 e del 2016. La Turchia da parte sua potrebbe valutare l'acquisto di caccia russi Su-57 al posto degli F-35 americani, nel caso in cui Washington decidesse di bloccarne la consegna a fronte dell'acquisto, da parte della Turchia, di sistemi missilistici russi S-400. A comunicarlo è la stampa turca, mentre il Ministero della Difesa ha dichiarato almeno per il momento di non poter confermare le indiscrezioni. A partire da oggi, lunedì 28 maggio, l'Agenzia per la Difesa Civile della Svezia distribuirà a tutte le famiglie svedesi un opuscolo intitolato in caso di crisi o di guerra. 20 pagine di raccomandazioni sul comportamento da tenere nelle situazioni di emergenza. Per esempio attentati, attacchi informatici e conflitti armati, consigli su come trovare rifugio, procurarsi cibo e acqua, interpretare le sirene e gli allarmi. L'opuscolo, di cui sono state stampate quasi 5 milioni di copie in svedese, è già disponibile anche in inglese e sarà tradotto in altre 13 lingue. L'ultima pubblicazione di questo tipo risale al 1961, in piena guerra fredda. La decisione di Stoccolma sarebbe legata al deterioramento delle condizioni di sicurezza e per lo stesso motivo, come afferma il Ministro della Difesa svedese Peter Hultqvist, la Svezia ha deciso di ripristinare la presenza militare sull'isola di Gotland, nel Mar Baltico, che ospita ora un battaglione di 350 soldati. Sebbene non faccia parte della Nato, la Svezia collabora attivamente con l'Alleanza. Durante le manovre del 2017, cui presero parte 19 mila soldati provenienti da otto paesi diversi, il generale statunitense Ben Hodges, comandante delle forze terrestri americane in Europa, disse che questa zona in generale è molto importante dal punto di vista strategico e che nello specifico non esiste isola più importante di Gotland.